Oggi è il 6 gennaio 2019, è il giorno dell'epifania. Noi del C6 vogliamo che la metropolitana 3, linea gialla, ci sia e sia prolungata fino a Paullo. Niente compromessi, nessuna soluzione alternativa. Siamo arrivati qui in questo comune di Veniglia che con le sue scelte sta proiettando Sudes Milano nel futuro, con soluzioni che guardano alla salute e alla mobilità del cittadino. Su Befana, lascia questa calza con caramelle e cioccolatini in segno di saggezza per questo comune che propone soluzioni eco-compatibili e di bellezza. Siamo arrivati qui in segno di 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 segno.